ciao a tutti e benvenuti agli esercizi di meraviglia questo è il secondo degli esercizi di meraviglia col mouse avete anche voi degli vecchi mouse e gli antichissimi mouse io sì ancora qualcuno per cui adesso essendo passata da un po la tavoletta elettronica li utilizzo come meglio credo cioè ci disegno intorno più o meno quel che faccio con ogni cosa che non so utilizzare il tosa erba il cacciavite che ne so tutta una serie di cose utili alla sopravvivenza ma insomma ecco qui ecco qui la faccia di mouse che è comparsa ci vuole davvero poco per far uscire dal mouse da un filo qualcosa e qui abbiamo una faccia di mouse che non è sola chi ha un bambino piccolo bambino chi è appoggiato sopra come una ranocchietta ci manca il piede dopo i pezzi servono tutti gli facciamo anche una fluente capigliatura e poi cosa manca ma il braccio celale manca sicuramente anche lei qualche pezzo mettiamo una gonna ricca mente decorata i pallini sono sempre un'ottima metodologia di decorazione facile veloce non impegna però fa fa chic se vi chiedete perché queste figure sono come alzute un po piegate il motivo è molto semplice non non ho una cosa più alta su cui mettere il cellulare e per cui devo farli stare in questo piccolo spazio ma spero molto presto di attrezzarmi e questa mamma dove sta sta sdraiata su un prato perché ormai è estate e ci piace stare fuori all'aria aperta anche saputo tanto e probabilmente stai arriva al lago non so se c'è cristo da qualche parte che ha messo la sua passarella però insomma arriva al lago è tutto molto bello sole splende il marmocchio dorme e voilà il nostro mouse adesso è diventato una famiglia ogala arriva al lago e con questo è tutto io vi invito a venire a trovarmi sulla mia pagina facebook di bura bacio su bura bacio punto wordpress.com del mio blog ea cercare su youtube gli altri esercizi di meraviglia ciao